Sì, è scivolante. Ecco perché vince, c'è la cremina. Buongiorno, sono Dino Zantelli, pilota della O3000, partecipo a questo ride in uno scappo catamarano Clerici motorizzato Mercury. È il diciottesimo ride a cui partecipo. Eccoci qua, siamo pronti a partire per questa avventura. Speriamo nelle buone condizioni climatiche, anche se ci dicono tutti che c'è vento, vento è mosso soprattutto nel secondo tratto del percorso. Però noi cercheremo di metterci la tutta. Un'altra, 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 un'altra. Un'altra, 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 un'altra. Un'altra, un'altra, un'altra. Oh, che marvi, guarda. Grazie a tutti. Grazie a tutti.